Un grande campionato culminato con una prestazione formidabile che ha regalato al Napoli la Coppa Italia ha fugato i dubbi di Cesare Prandelli, almeno i primi. Lorenzo Insigne fa parte della lista dei 30 papabili azzurri che voleranno in Brasile. Ora l'obiettivo del giovane fantasista napoletano è quello di conquistare un posto tra i 23 disponibili per la spedizione. Io dico fin quando il mister non farà la scelta dei 23 siamo tutti in bilico, però ti ripeto io andrò là la settimana prossima, metterò a disposizione del mister quello che mi chiede, quello farò, ingrociando le dita, dando il massimo e sperando di stare nella lista dei 23. Le parole d'Insigne a margine di un incontro dedicato ai 100 anni del circolo Canottieri Napoli a cui hanno partecipato tante glorie del calcio Napoli del passato, oltre ai giornalisti sportivi dell'Ussi. Un secolo di campioni, il titolo dell'incontro in cui il mondo del giornalismo sportivo e quello del calcio napoletano si uniscono per festeggiare un secolo di vita del prestigioso Sodalizio, un club dalla storia leggendaria e ricca di trionfi. Un appuntamento sul filo dei ricordi gloriosi tra la concretezza del presente e le speranze per il futuro, futuro che in questa città tutti si augurano porti proprio il nome di Lorenzo Insigne.